ma questa è piazza della ferrovia noi eravamo a Porta Capuana questo è un altro spettacolo ma dove mi ha portato? dove mi ha portato? lo troveremo signora, mi segua Anedua, non ho il garzone sì ma... un minuto e sarà voi io vado di fretta, ho il treno alle otto per Roma ma soltanto un minuto di orologio vi prego, accomodatevi ragazzo, un giornale al signore scusate, dovreste favorire e far recapitare questa lettera dalla signorina Elì a figlia e l'avvocato questa lira è per voi sentite, conservatevi la lira perché questi servizi non ne faccio ma scusate quanto siete stupido si tratta soltanto di portare un biglietto sì? sì ma se si trattava di una cosa lecita ci andavate voi stessa e invece si tratta di una cosa sporca e avete incaricato me e i servizi è sporco, non ne faccio oh quanto siete cretino no, e allora non avevo la raffatella di burpa dove vongola, una donnina, una maruzella e cozza con usurza di ebrora non ne ha voglia oh io ne ha voglia, a me la me che rappresenta sotto a questo palazzo che ha spietto per cambiare posizioni io senti da voler un ben avazzo potremmo approfittare sotto il portone è troppo giusto e pur penso stessa parlate con papà parla e che dico ma capiglia della quaterna eh, questo ci stava sotto sta bene ma Alberto è un treppo che ha fatto conto senza la tupicozza c'è il 9 e mezzo e chi si muove qua? ciabattino 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 fammi vedere eh eh sì signore buon asci nuovo c'è una cagnasole guarduncilla e sola e tac e in pigna e gamba alla nuova eh sì perché e la cazzatella sono ancora in buono stato e tu che mi consigli? ietta chi ha niente ma scanzata va a sta pizze scappata si avrita a comprare lascia da mille a me so degni ris e is e sulla mente degni me quando rossa torna dal villaggio sulla sola e me sta in volto io la seguo ma non ho il coraggio di pregarla a terra mi ascolto dolce la sera è lunga la via a farla breve che insieme sa ria cinema 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 è l'ideale in pratica per stare in libertà tutte le coppie e i tenere si dà un convegno hanno le mani hanno le mani di bere grazie all'oscurità proviamo a fare un esperimento gratuito che poi passiamo agli esperimento a pagamento il padrono di questo salono chi è? il barbiere il barbiere grazie chi le ce l'ha ritta prima e questo pantalone che vado a toccare che cos'è? un calzone avete sentito? e questo pulezza stivalo che si chiama ruminaca come si chiama? ruminaca? avete sentito? io non ho parlato il muschiglione che ha dopo ogni avvelena ha già avuto a parlare io ho già avuto a dicere Alberto Andreppaca chi è e finiscele e chi l'Alberto Andreppaca? non ho avuto a dire ti capite la differenza? tu l'hai perduta e essa t'ha salvata e chi sei tu che viene a fare la bocca di i poveri? battele battele e poi è più la città battele e qua non è da buco mannaggia quando chi un notte sa faccio e corna bella ma caccia ne che sa torno girerà cacca bella e si è da torno e si è e se è di più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.